E sai che ho letto una notizia Mauro, che Batman, che la maschera di Bane, che è un nemico di Batman, è andata a ruba. È il cattivo? Sì, è andata a ruba, capito? Tutti durante questa pandemia l'hanno comprata perché ovviamente è una mascherina che copre proprio la faccia, il muso, quindi, ed è perfetto. Chissà che cosa pensa Batman di tutto questo, ce l'abbiamo qui in collegamento. Oh signore, non l'avevo riconosciuto! Batman! Batman, innanzitutto come stai? Ciao Batman! Molto bene! Grazie! Quindi cosa pensi del fatto che è andata forte la mascherina di Bane? Batman? Batman? È nervoso forse! Sapete quante mascherine ho venduto io nell'ultimo mese? Nessuna! Perché? Come nessuna? Prendono tutti quella di Bane! Sì, l'ho letto! Bane! 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 Male letto Mr. Bane! Non mi fa proprio ridere che le sue gag... No, quello è Mr. Bean! No, è un altro, è un altro! Bane è il nemico suo! Il male vince sempre sul bene! I buoni sono solo fruttiferi, ma ci vogliono trent'anni per incassare qualcosa! I buoni sono dei bambacioni, dei fratacchioni, come dici il pinguino! No, no, non è un pinguino, l'abbiamo detto è De Luca, ok? Ah, infatti non capivo! Comunque è la sua mascherina, no, lo voglio dire ad essere sbagliata, perché lei ha una maschera che copre tutto tranne proprio il muso! Tra l'altro la stiamo vedendo proprio anche noi qui, anche su YouTube la vedono! Lei copre l'orecchio, tutto, ma tranne la bocca, quindi non è utile in questo momento! La verità è che ce l'hanno con me perché ho congiunti i pipistrelli, lo so! Ma no! Tutta colpa di mia nonna che la prima notte di nozze si accoppiò con un pipistrello e non con mio nonno! Povera! Al buio sbagliò uccello! Maledetta! Maledetta! Lei comunque deve stare calma! E comunque dovrebbe indossare una mascherina più idonea, ma almeno il gel disinfettante lo usa, almeno quello! Ci ho provato, è impossibile! Vedete questi guanti? Sì! Per togliere ci metto una vita! Sono attaccati alla tuta! Ogni volta che mi devo sfogliare nudo integrale, mentre mi igienizzo e mi rivesto, i cattivi hanno già fatto venti reati! Ma Robin, Robin non l'aiuta! Ecco, compagno! E vabbè dai! L'altra volta ci ha parlato di Robin, di questa storia! Sì, ma proprio che mi vuoi male con questa domanda! Neanche la d'Urso me l'avrebbe fatta! Ma insomma... Come va con Robin? Vi siete rivisti? Eh! Ah già! Dopo due mesi di lockdown ci siamo rivisti! Ero così felice, ma poi ho scoperto tutto! Che? Cioè? Ci è fatto la quarantena con l'uomo ragno! No! No! Dice che lui era andato lì per togliergli le ragnatele! No! Da dove? Per sanificare! Poi sai una cosa tira l'altra! Mannate! Per fortuna ho trovato un lavoro in tv! Ah sì? Mi hanno chiamato a fare lo scalda pubblico negli studi televisivi! Davvero? Sì! Faccio la clac! Ah! Perché io sono Batman! Ah! Ma non c'è molto pubblico adesso però negli studi televisivi! Che tristezza! Lei non sta bene Batman! Sono finito troppo in basso! Si faccia curare! Ma che cosa ha spaccato? Un vetro o qualcosa? Batman! Batman! Eh! Ha lanciato un bicchiere cosa fa? Calmino dai calmino non sfasciarci lo studio! Allegria! Allegria! Ma sì! Ma sì! Sono felice! Grazie! Batman! Non sembra Batman! L'abbiamo capita! Dai! Nel numero uno! Non c'è pubblico! Non c'è pubblico degli studi!